Un saluto e ben trovati alla voce delle istituzioni, incontriamo oggi ospite nel nostro studio l'assessore regionale Gian Paolo Bottacin che saluto e ringrazio per la sua presenza. Grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti gli ascoltatori. In una recente conferenza stampa lei ha definito il 2022 un anno epocale per l'idroelettrico e l'ambiente, ci spiega perché e quali sono eventualmente le ricadute nel nostro territorio? Direi di sì, il 2022 si caratterizza per il raggiungimento di un obiettivo che ci eravamo prefissati da decenni in provincia di Belluno, quello di diventare i protagonisti della gestione dell'acqua. L'anno scorso si è portato a termine il raggiungimento della completa piena autonomia della provincia di Belluno rispetto alla gestione dell'acqua. Cosa significa in parole povere? Significa che dopo la prima grande conquista dei canoni idrici, cioè che da ormai da anni chi utilizza la nostra acqua deve pagare un canone e questo canone viene incassato dall'ente provincia di Belluno interamente, quindi questa è stata la prima conquista, si trattava di fare un passo in più. Il passo in più era quello di diventare totalmente protagonisti anche nella gestione delle nuove concessioni idroelettriche che scadranno fra qualche anno. Questo è stato possibile grazie a un lavoro che abbiamo svolto alcune regioni, in modo particolare il Veneto e la Lombardia come capofila e l'allora sottosegretario della presidenza del Consiglio, attuale ministro Giancarlo Giorgetti. Lui aveva presentato un emendamento in una finanziaria di qualche anno fa, dove sostanzialmente diceva che le regioni che erano interessate a gestirsi in totale autonomia, cioè alla stessa stregua del Trentino Alto Adige per capirsi la partita dell'idroelettrico, lo potevano fare. Per farlo dovranno approvare delle leggi regionali e così è partito l'Iter, in Lombardia ma anche in Veneto, per definire questi aspetti. Nel 2022 abbiamo approvato questa legge. Cosa dice questa legge? Dice che alla scadenza delle concessioni le centrali idroelettriche non saranno più dello Stato ma saranno della Regione, perché così prevede l'emendamento statale, ma a trattare sulle nuove concessioni sarà la Regione per quanto riguarda le sei province del Veneto non caratterizzate dalla specificità e sarà la provincia di Belluno per quanto riguarda la partita delle centrali idroelettriche, le grandi centrali idroelettriche che insistono nel territorio bellunese. Stiamo parlando di due terzi delle centrali idroelettriche. Quindi sarà la provincia che farà le gare, potrà anche costituire volendo una società, potrà essere costituita una società pubblica ma non più a livello statale ma a livello territoriale per la gestione diretta oppure fare una gara. Però le regole della gara le decide la provincia, non le decide più lo Stato. Così come deciderà i canoni, così come deciderà tutti i vincoli che dovranno rispettare coloro che dovessero vincere questa assegnazione di nuove concessioni. Direi che è una svolta epocale perché oggi la provincia di Belluno si trova alla stessa stregua del Trentino Alto Adige per quanto riguarda l'aspetto relativo alla gestione dell'idroelettrico. Quindi autonomia vera, realizzata, concreta, portata a casa. Cosa comporta questo? Comporta una ricaduta sul nostro territorio strutturale, quindi consolidata nelle varie annualità per sempre, di parecchie decine di milioni di euro. Direi che è una conquista assolutamente importante. L'abbiamo fatta con un gran lavoro, in silenzio, però oggi che abbiamo portato a casa questa conquista io mi auguro che ci sia, e ringrazio Tele Belluno per darmi l'opportunità di spiegarla, ci sia un ampio riscontro perché è una conquista e una vittoria del territorio, del territorio bellunese, territorio che ha sempre pagato pesantemente anche in termini di vite umane quando si parla di idroelettrico. Siamo la terra del Vajont e siamo una terra che ci vediamo svuotare i laghi d'estate. L'abbiamo visto non solo nel caso del 2022, dovuto alla grandissima situazione di criticità, dovuta alla siccità, ma anche in situazioni molto più ordinarie. E quindi direi che è stato un anno assolutamente epocale per la ricaduta che ha sul territorio bellunese, che non abbiamo visto subito, che vedremo nei prossimi anni. Ma già da quest'anno, nella prima fase, quindi prima ancora che scadano le concessioni, gli attuali gestori degli impianti sono costretti a versare nelle casse della regione, che a sua volta è diversa al 100% nelle casse della provincia di Belluno per quanto riguarda gli impianti bellunesi, i fondi relativi a un ulteriore canone aggiuntivo, che non è alternativo ai canoni già esistenti, ma un'ulteriore cifra. Stiamo parlando di 8-9 milioni che già da quest'anno sono entrati oltre ai canoni idrici nelle casse della provincia. Sono soldi che devono essere spesi in qualche ambito o sono vincolati? Sì, la legge regionale prevede degli ambiti di intervento che sono molto legati agli aspetti della montagna, pensiamo che sono ambiti anche vasti, l'aspetto sociale, l'aspetto sanitario, l'aspetto ambientale, quindi ci sono ampi margini. Quest'anno, concordato con la provincia, si è deciso di investirli, visto anche il caro energetico, finanziando le case di riposo per far fronte alla situazione della crisi energetica legata ai costi del gasolio e del riscaldamento, prevalentemente, e poi dopo anche per altri interventi di carattere ambientale, ed è previsto anche un finanziamento per le fasce meno ambienti, per cercare di dare una mano ai cittadini che non ce la fanno arrivare a fine mese. Quindi già da quest'anno ci sarà questa opportunità, però la grande svolta sarà nel 2029, con le nuove concessioni, allora lì non parleremo più di 8-9 milioni all'anno, parleremo di decine di milioni all'anno, che è un risultato di cui possiamo essere contenti, perché non è un finanziamento una tantum, è una cosa strutturale che durerà per sempre negli anni. Epocale, come ha detto lei, segna una nuova epoca. Sì, perché consente di fare anche pianificazione di grossi interventi, fare un intervento di una galleria che costa 50 milioni di euro, oggi sarebbe improponibile per un ente come la provincia, domani invece potrebbe pianificare di farla addirittura con i finanziamenti di un solo anno, oppure un'opera di 150 milioni, magari utilizzando 2-3 annualità. Insomma, credo che questo possa essere un risultato definito da tutti clamoroso. Questo per quanto riguarda l'idroelettrico, lei è anche assessore al dissesto idrogeologico, di recente ha avuto un incontro anche con gli amministratori del territorio per tentare di risolvere, quantomeno di mettere mano al problema delle valanghe, del dissesto in generale. Come è andata? L'incontro che facciamo spesso, questo incontro che si è svolto recentemente a Villa Pat, era relativo ai siti valanghivi, ai nuovi siti valanghivi, perché dopo Vaia si sono generati oltre 100 nuovi siti a rischio valanghe, perché essendo caduti gli alberi, ovviamente in quei siti si sono generati dei rischi relativi alle valanghe maggiori. Sono stati presi i siti che potevano interessare o abitazioni o viabilità, sono circa una trentina, 30-40, e si è iniziato a intervenire su quelli. Quindi sono fatte le progettazioni, se ne è occupato prevalentemente Veneto Strada e come soggetto attuatore, quindi un nostro abbraccio operativo. Sono stati individuati i siti, è stata fatta la progettazione, sono state fatte tutte le varie attività e si sta procedendo con la realizzazione delle nuove paravalanghe. Quindi vengono tolti gli alberi che sono lasciati lì perché fungono da protezione fintanto che non vengono messi i paravalanghe e poi vengono tolti gli alberi all'ultimo momento e montati i paravalanghe. Ovviamente avendo questi nuovi siti e non avendo ancora terminato tutti i cantieri abbiamo messo in campo un piano di protezione civile specifico per questi siti, molto complesso, già subito dopo Vaia e che viene gestito e aggiornato costantemente. Questo piano prevede che questi siti siano monitorati, misurando l'altezza dell'anese, insomma ci sono tutta una serie di procedure fino ad arrivare anche all'evacuazione completa delle abitazioni che sono a rischio. Questo fortunatamente negli ultimi anni non è mai accaduto, cioè non siamo mai arrivati al punto di dover evacuare, però i vari siti sono monitorati e ringrazio anche a chi svolge questa attività, in modo particolare il soccorso alpino e i carabinieri forestali che sono l'anello diciamo in congiunzione con i siti e la nostra struttura della protezione civile che coordina tutte le attività. Protezione civile provinciale che ha potuto beneficiare ultimamente di un fondo, un finanziamento diciamo di 600 mila euro da parte della regione. Sì, in realtà è un fondo su vari canali di finanziamento, nel senso che abbiamo cercato di dare un segnale anche quest'anno a tutto il sistema della protezione civile, a partire dalle amministrazioni comunali, quindi sono stati finanziati alcuni comuni per l'aggiornamento del piano di protezione civile che ogni comune deve avere, sono stati erogati i finanziamenti per le sedi della protezione civile e sono stati erogati dei finanziamenti anche per attrezzature o mezzi per i volontari della protezione civile perché ovviamente i mezzi si usurano e anche i dispositivi di protezione individuale, uno magari non ci pensa, ma hanno una durata non solo legata all'usura ma proprio anche al tempo, quindi è necessario sempre cercare di dare una mano a queste persone che quando c'è un'emergenza sono sempre pronte a scendere in campo, quindi direi che è il minimo cercare di andare incontro alle loro esigenze. È un finanziamento direi piuttosto importante, risale al bilancio del 2022, è stato finanziato con fondi del 2022, per quest'anno, il 2023, prevederemo ulteriori fondi e quindi si continua in questa direzione per cercare di garantire che il sistema della protezione civile del Veneto e quello brusunese in particolare siano efficaci. Sì, siamo al top in Italia, non lo dico io, sarei di parte, ma lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, proprio qui a Belluno, in marzo del 2019, quando è venuto dopo VAI, ha detto che la protezione civile del Veneto ha dato una lezione a tutta l'Italia e questo credo sia la frase che in questi anni di assessorato mi ha dato la maggior soddisfazione perché vuol dire che il lavoro che ho cercato di mettere in campo, ringrazio ovviamente tutti coloro che mi hanno seguito su questo, dai volontari, le strutture regionali, gli amministratori locali, eccetera, ha dato un esito, un riscontro positivo e devo dire che quando io sono diventato assessore nella Commissione Protezione Civile, della conferenza delle regioni, dove ci incontriamo tutti i colleghi delle varie regioni, il Veneto non è che fosse tanto considerato, oggi quando parlano del Veneto gli altri ascoltano e questo credo sia positivo, dobbiamo essere orgogliosi. Tant'è che i nostri vengono anche chiamati spesso quando c'erano delle emergenze? Sì, vengono chiamati spesso, anche a Ischia, è intervenuta un'unità cinofila, adesso con Sapino, fra l'altro un bellunese, nelle Marche siamo intervenuti sia nell'entroterra che è Senigallia, sono stati gli eventi alluvionali appunto dell'autunno scorso, ma anche in grosse emergenze, diciamo così, passate alle cronache nazionali, penso al terremoto al centro Italia, all'emergenza neve al centro Italia, penso all'hotel Rigopiano di cui c'è stato l'anniversario pochi giorni fa, per cui insomma è un sistema che è riconosciuto come un'eccellenza e sottolineo che il sistema della protezione civile nazionale è considerato un'eccellenza a livello europeo, quindi se noi siamo un'eccellenza in Italia e l'Italia è un'eccellenza in Europa, penso che possiamo esserne orgogliosi. Le emergenze però sono dietro l'angolo anche nel nostro territorio e la protezione civile si prepara pensando e progettando un centro di coordinamento del soccorso che è in fase di costruzione, possiamo dire. Sì, partiranno i lavori a brevissimo per la costruzione, il sito individuato è all'interno della nuova caserna dei Vigili del Fuoco di Belluno, è una struttura assolutamente all'avanguardia, con tutte le massime sicurezze possibili e immaginabili, di centri di coordinamento a soccorsi come questo non ce ne sono in tutto il Veneto, per cui un grande progetto, reso possibile, lo sottolineo, grazie a fondi di privati, prevalentemente di privati, perché c'è stata dopo Vaia un'azione congiunta da parte dei sindacati di Confindustria, quindi le associazioni datoriali e le associazioni sindacali, che hanno voluto mettere a disposizione questi fondi. Poi questi fondi sono riusciti a farli mettere nel canale dei finanziamenti nazionali di Vaia, a questi fondi si sono aggiunti altri fondi dell'ente provincia di Belluno e tutto questo ha consentito di concretizzare un progetto così ambizioso, così importante. Sarà un centro di coordinamento a soccorsi che non avrà uguali in Italia, quindi direi che per l'inaugurazione penso che potremmo chiamare tutti i vatici nazionali del sistema della protezione civile senza dubbio. Taglio del nastro, quando sarà? Difficile dirlo forse. Ci vorrà qualche mese e poi è difficile dirlo perché quando si fanno gli appalti in questo paese, lo dico perché siamo nel sito che proprio in quell'ambito là abbiamo visto tutte le vicissitudini della nuova caserma ai visili del fuoco e quindi incrociamo le dita e non diamo date. Però insomma direi che i lavori sono partiti, c'è già stata la demolizione del vecchio edificio dove appunto sorgerà questa nuova struttura, quindi insomma io sono fiducioso e ovviamente non appena sarà completato sarà una sicurezza di più per i cittadini di tutta la provincia. Noi siamo in chiusura, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione e ringrazio ancora Giampaolo Bottacin, assessore regionale per la sua presenza. Grazie a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie a voi per averci seguito, arrivederci. Grazie a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.